Le mie belle nipotine, neanche potete immaginare dove sono, la località è a Renzano, ve la faccio vedere un po'. E sono qui perché da circa due ore c'è stato il 21st century meeting, perché vicino a me, nel particolare non sta il Diablo, ma Mauro Maior Maggiora. Con il vostro zio, lo zione e Maior, abbiamo parlato di tante cose, ancora ne parleremo, ma adesso per un saluto così, anche per diciamo, buone costumanze, passo la parola a Maior, perché io sono al settimo cielo e quindi ho dato. Ciao! Beh, io posso dire questo, di cosa abbiamo parlato? Innanzitutto indosso gli ucchialini che arrivano direttamente dal pantheon in fine anni 70, quindi il mondo di salopette, giotto di passeggiati di Ostia con palazioni anonimi. Marrakesh anche, vivo da Re, Casablanca, il mare anonimo di Casablanca, abbiamo parlato di pan di Spagna, vero? Solo pan di Spagna? Fondamentalmente di strati, deflagrazioni, tragedie, cosmogonie, appunto prevalentemente a fine anni 70, sedimenti. Anche di voi abbiamo parlato. Molto di voi. Non so se ne abbiamo parlato bene o male. Molto di voi. No, no, no. Gentili uomini. Non vogliamo. Non vogliamo. Non vogliamo. Per cui ci vediamo e io probabilmente per qualche giorno mi assenterò, nel senso che ho la connessione che è in condizioni esandi e comunque ritorno. Ci si vede e ci si vede sicuramente. Ciao! Ciao!